Benvenuto su Gossip in the News. Prima di iniziare ti invitiamo a iscriverti al canale. La puntata di Affari Tuoi del 9 gennaio 2024 ha tenuto incollati milioni di telespettatori grazie alla partita emozionante di Mattia, che ha sorpreso tutti esplodendo con una richiesta mai vista prima. Dopo tre partecipazioni, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, grazie al suo fascino e al suo passato da giocatore di calcio. Nel corso della puntata, ha rifiutato offerte generose da 4.000 euro e 30.000 euro, mantenendo fino alla fine il misterioso pacco numero 18. Rimasto solo un pacco blu e uno rosso da 50.000 euro, Mattia ha rifiutato il cambio e ha scoperto che nel suo pacco c'erano solo 20 euro. Amadeis ha commentato il coraggioso percorso di Mattia, sottolineando il destino del numero 18. Un momento inusuale è stato quando Mattia ha chiesto di spegnere la musica Profondo Rosso, irritandosi durante la diretta. A presto.